Il pensiero, ma perché una cosa funziona a qualcuno e non funziona a tutti? Da lì ho cominciato, sai, la ricerca, a un simposio, era la fisica quantistica al servizio della salute. Cominciano a spiegare biofotoni, quantistica, termini che per me, che ero legato ancora alla biochimica, sai, so che il corpo è formato di proteine, amminoacidi, quindi tu devi introdurre, per me erano cose magiche, magia. Un mondo dell'olistico, dalla radionica a Rolfi, la medicina tradizionale cinese. Fortuna che lui è stato talmente convincente che mi ha portato nel suo studio, mi ha fatto una sua seduta e io mi sono alzato di un centimetro e mezzo, quasi due, in una seduta e per un mese il mio dolore alla schiena, che avevo da dieci anni, è scomparso. Quindi, quando una cosa ti funziona, cominci a dire, perché ha funzionato? E da lì è cominciata proprio la mia ricerca e ho scoperto che noi siamo fatti di frequenza, che ogni cosa nell'atomo è fatti di frequenza e che la malattia, che il problema è uno squilibrio informazionale. Infatti, adesso molti medici stanno parlando dalla medicina chimica alla medicina informazionale. Infatti, la malattia o l'origine di qualsiasi squilibrio di rapporto è un problema di informazione. Dopo tre anni mi sono isolato per due anni in prima Rimini, poi a Padova, in un'associazione che avevo creato, e ho cercato di mettere insieme tutte le conoscenze. Se dovessi identificare, diciamo, il momento in cui hai avuto proprio quello scatto di consapevolezza che ti ha portato fino a qua? È stato, sì, c'è stato un momento. È stata una delle tante conferenze di un importante, si può dire, formatore italiano, che diceva, dentro di voi c'è una voce, ma non dovete ascoltare la testa o la pancia, concentratevi nel cuore, al centro del cuore. E io, per la prima volta, ho sentito una vocina che mi diceva, smetti di vendere, smetti di lavorare per gli altri, stai da, insomma, lavora per te, scopri te stesso. E lì ho lasciato il giorno dopo, sono andato in azienda, che lavoravo, e mi sono licenziato e lì mi sono isolato e ho creato un'associazione che l'ho durata per due anni, per mettere insieme tutte le conoscenze. Ma è proprio scattato in quella notte lì, 4 gennaio 2008. E l'incontro con Enrico Caldari? Siamo arrivati da due vite completamente diverse all'obiettivo che ci unisce, che è cambiare il mondo partendo da noi. Quindi abbiamo tutti e due nella nostra strada, abbiamo capito che se c'è un lavoro interiore può manifestarsi un lavoro esteriore. E se cominciamo a lavorare dentro, fuori, fuori, è più semplice fare le cose. Il fatto che voi siate qui a San Marino è dovuto per varie ragioni, tra cui forse anche, diciamo, cominciare a cambiare il mondo proprio partendo da un frattale più piccolo, che è proprio la comunità di San Marino, la Repubblica di San Marino. Anche noi abbiamo creato un istituto proprio, si chiama Q-Institut San Marino. Perché abbiamo visto che San Marino ha un potenziale enorme per far sì, noi lo chiamiamo Q-Project, però è un progetto, è Q-Project. Praticamente nei nostri studi hanno cominciato sia fisici quantistici, sia persone di alta spiritualità, maestri spirituali, sia divulgatori tipo Greg Brade, molto più famosi di me, Bruce Lipton, cominciano a dire ormai da anni dell'effetto Marisci. Sì, certo. Cioè, che se tu riesci a mettere in coerenza, non la chiamiamo in coerenza, in presenza, chiamiamola coerenza, ok? La formula è la radice quadrata dell'1% del territorio, quel numero così piccolo di persone può cambiare completamente la, si chiama coscienza collettiva del territorio. Bene, ecco che ho capito che lavorando con me stesso e insegnando agli altri a far quello che ho fatto io, possiamo veramente cambiare le cose, senza dare attenzione o manifestare contro chi? Contro qualcuno che non può cambiare se non cambi tu. La metafora della centesima scimmia. Ok, quindi l'abbiamo visto e sta già cominciando a funzionare. Abbiamo bisogno di molte persone che imparino a fare questa pratica quotidiana di coerenza. E il concetto principale, il corso di base, che lo chiamo io il corso principale, che già con quello abbiamo visto che l'80-90% di persone è più che sufficiente, è proprio il corso base, che è proprio l'ere qui l'essenza, che è come imparare a comunicare col proprio inconscio, apro una parentesi, la mente inconscia è quella che controlla tutte le nostre funzioni vitali. La mente inconscia è quella che comunque controlla il non parlato, quindi non solo per i problemi fisici, ma anche per i problemi di relazione. Io non trovo lavoro perché magari non riesco a vendermi io, non riesco a raggiungere quell'obiettivo perché non riesco a educare il mio corpo, le mie attività a vivere in un certo stato. Quello lo fa inconsciamente, lo fa una parte di te che si chiama mente inconscia. Ok, perché inconscia? Perché non sei consapevole. Come quando tu guidi, tante volte arrivi alla destinazione, non ti ricordi i cartelli, non ti ricordi che hai salutato, l'hai fatto in automatico. Noi ci sono delle procedure di kinesiologia, altre procedure di psicologie energetiche che dopo, per dire, ho un corso di due o tre giorni in aula, ho un corso multimediale, riesci a comunicare con quella parte lì e con la parte lì ti dice, queste sono le vere cause dei problemi, cioè individuare esattamente il tuo problema origine da questo. Faccio un esempio, le mie ernie non erano le ernie il problema perché ho tirato sul peso, le mie ernie, la mia causa era lo stomaco come organo, ok, che sforzavo troppo, ma soprattutto perché il mio inconsciamente io non mi sentivo appagato. Quindi le mie ernie non potevano risolvere nessun fisioterapista, ma non perché il fisioterapista non era bravo, perché non era la causa il mio problema, il mio problema era un problema psicosomatico. Quindi grazie a questo, al metodo, praticamente ho imparato a comunicare sotto il mio inconscio e mi ha detto, guarda, la causa delle tue ernie è la mancanza di appagamento. Appena io con altre tecniche che insegniamo ho rimosso questo trauma di non sentirsi appagati, sai, di non sentirsi, sai, quando papà non ti dice mai bravo, non sentirsi fiero, l'ho risolto dentro di me, le ernie sono magicamente scomparse. Prima cosa che noi facciamo è insegnare alle persone come comunicare col proprio sé e trovare la vera causa dei problemi. E poi diamo delle soluzioni. La soluzione sono sempre o a livello energetico, quelle più diffuse, o a livello inconscio. Noi già nel primo corso, per dirgli, diamo già delle tecnologie nuove, che si chiamano biotecnologie olistiche, che andiamo praticamente a insegnare alla persona comune come farsi l'agopuntura. E noi abbiamo costruito delle nuove biotecnologie, al posto di usare degli aghi o degli stimolatori, elettrostimolatori sul corpo, ma di posizionare dei piccoli dischettini su dei punti specifici dell'organismo, sono nove totali, proprio più specifici. Con quelli riesco a avere dei benefici. I due meridiani, se capisco bene. Ancora più semplici. Io faccio anche un corso solo per professionisti, per applicare, abbiamo agopuntori, che lavorano, che collaborano con noi, che usano queste biotecnologie, quelli sono dei corsi avanzati. Però a me quello che mi interessa è che ogni famiglia abbia un pronto soccorso che non sia più dipendente dalle imprese farmaceutiche. L'innovazione di questo metodo è, che abbiamo anche molti terapeuti che lo applicano, è ogni persona è un essere individuale bellissimo, ma è diverso. È un unico e ripetibile. È un unico e ripetibile. Dopo diamo delle accortezze come pulire i pensieri, come fare quei minuti di centratura che ti servono per liberarti dal tutto sovrastress della vita quotidiana, come informare l'acqua. Con piccoli accorgimenti riusciamo a ricreare quel benessere principale che una persona, così sta bene, perché dico sempre, quando una persona sta bene, pensa bene e cambia il mondo. Verissimo. Una domanda un po' provocatoria. La faccio a te e la farò a Cade Rico, poi uno risponderà. Liberi dal sistema, che mi sembra sia uno dei leitmotiv, ma non c'è il rischio che invece ci si libere da un sistema e si rimane magari un po' agganciati al vostro sistema? Cioè nel senso che possa essere alla fine... Hai capito cosa intendo? Ok, allora, il concetto liberi dal sistema è un percorso completo dall'agricoltura all'energia e per essere indipendenti da un sistema, chiamiamolo Stato, politica, multinazionale, cioè da un organo di controllo. Enrico ti risponderà per quello che riguarda l'energia, la finanza soprattutto, perché lui è famoso per cos'è il denaro. Io ti spiego a livello salutistico. Appunto per quello la domanda la faccio a tutti e due. Allora, già in tutti i miei corsi io insegno come staccarsi dal metodo, perché non voglio che diventi una dipendenza. Cioè è già di default. Infatti molte persone dicono Marco, ma io sento già la risposta prima di... Cioè sento già quello che mi serve senza usare il tuo metodo. Sei arrivato? Non devi più usare il metodo? Sei arrivato? Curiosando un po' fra il vostro materiale, ho trovato molto interessante quando tu racconti un po' del sistema simpatico e del sistema parasimpatico. Credo che sia... Potrebbe essere interessante se ne dessi un accenno in questa sede. Sì, è... Tom è un grande. Il parasimpatico simpatico, tanto per spiegarvi, funziona così. Allora, quando io sono tranquillo e sereno, ok, proprio, e faccio quello che mi piace, io ho una modalità... Il mio cervello ragiona proprio, si dice modalità parasimpatica. Cosa vuol dire? Che è connesso al cuore. E prima parlavamo della coerenza. Il misuratore della coerenza misura proprio quanto è connesso il cuore col cervello. Più è connesso il cuore col cervello, più, ma a livello proprio fisico, il sangue rimane dentro gli organi, ok? Quindi cosa succede? Difese immunitarie aumentano. Il cervello è un organo. Più sangue ho il cervello, più ossigeno ho il cervello, più intelligente sono. Quindi non mi faccio comandare, sono increativo, ok? E rimango in amore. Lì erano i geni di una volta, dicevo sempre, quando chi rimaneva in parasimpatico è Leonardo da Vinci. Negli ultimi anni ci sono sempre meno geni, perché quando ti arriva un fattore ansiogeno, la moglie incazzata che ti urla dietro, il datore di lavoro che ti urla dietro, vai in mezzo al traffico, accende la televisione, non ne parliamo in questi... dal 2001 non bisogna più accendere la televisione, perché non ti danno una notizia che sia positiva, ok? Non dicono mai i prediti che il Veneto, il paese che danno più trasmissioni di sangue, il pompiere che ha salvato una persona, il medico che ha salvato una persona, no, ti dicono solo morti, 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 morti. Quindi tu vai in stato ansiogeno, vai in modalità simpatica, che vuol dire modalità lotte e fuggi. Tutta l'energia va fuori, non a caso la prima causa di morte è a ipertensione, malattie collegate a circolazione, perché i muscoli vanno nei muscoli, quindi non rimangono dentro gli organi, le difese immunitarie vanno giù, il cervello comincia a spegnersi e sei un perfetto cittadino, modello, che devi fare quello che ti dice il potere, devi comprare il farmaco che hai bisogno, devi fare quello che ti dicono gli altri. Perfetto, no? È il cittadino, modello, perché cos'era? Dividi impero, ma soprattutto... Dividi impero, sì. E cos'era? Chi ha paura è controllato, chi è in amore è difficilmente controllato. Ho notato che tu citi spesso il Cristo nelle tue metà. Il Cristo perché... Perché ti faccio un esempio, il Vangelo per me è stato un libro... Ma non... Non so, non voglio entrare in mezzo alle religioni, perché ho vissuto anche nei paesi arabi, ho amici ebrei, amici... Per me le religioni è un altro concetto. Per me il Vangelo è stato un libro spirituale, cioè quando leggevo il Vangelo non vedevo Cristo come il figlio di Dio, vedevo come un altro me stesso che aveva inquisito delle informazioni e io lì ho avuto un libro di risveglio, si può chiamare così. Vediamo se ho capito bene, cioè tu hai trovato degli elementi nel Vangelo e magari anche in altre fonti che riguardano... Sì, anche in qualche passo della Bibbia per dire. In qualche passo della Bibbia, che in qualche modo cercavano di trasmettere le stesse cose che tu stai cercando di trasmettere con un linguaggio diverso. Perfetto, sì. Ma questa cosa qua l'ho riscontrato in tutti i libri sacri nel mondo, tutti dicono la stessa cosa, ascolta te stesso, salva te stesso, salverai il mondo. Tutti. sul tempio di Delphi, no? Nosci te ipsum, conosci te stesso. Conosci te stesso e conoscere il mondo, perché il mondo è te stesso. Gesù quando diceva il padre mio attraverso di me, il padre mio chi è? La mente? Che è il casino? O il padre mio è il cuore, l'amore, la benevolenza, la compassione? Dov'è la compassione? Qui o è qui? Dov'è l'amore? Qui o qui? Capito? E il parasimpatico è manifestare, perché noi manifestiamo, il volere di quello che abbiamo dentro di noi. I grandi, come si dice, tutti i santi, tutte le persone nella storia erano questo, questo è il suo segreto. Ma nessuno gli ha insegnato come fare, hanno lavorato dentro di sé. Quindi, perché prima si lavora nell'invisibile e poi si lavora nel visibile. Nel visibile mi piacerebbe molto cominciare a dare una mano a sindaci e a comuni per creare delle strumenti di indipendenza. quindi noi stiamo investendo nella free energy, abbiamo molti progetti validi. Sì, tra l'altro, se posso interromperti, è una cosa che mi ha fatto veramente, mi ha divertito moltissimo quando te l'ho sentita dire, perché da anni che penso esattamente la stessa cosa, quando ho sentito dire che ti vuoi costruire un velivolo antigravitazionale a propulsione elettromagnetica per andartene in giro dove vuoi in tutto il mondo, perché a te piace viaggiare. A me è divertito moltissimo, perché ci sono dei personaggi che abbiamo visto che ci sono le basi per partire, però anche lì abbiamo capito, ci sono delle zone, io ho visto dei motori free energy andare in una zona e non andare in un'altra, perché ho capito, se in quella zona lì le persone sono pronte a vedere, il maestro arriva quando l'arrivo è pronto, la free energy arriva quando noi siamo pronti a non avere qui più i meccanismi di dipendenza che abbiamo con l'esteriorità. L'osservatore cambia l'osservato, giusto? Nessuno ormai, tutti gli scienziati, non possono dirmi l'osservatore. È stato confermato l'anno scorso da alcuni esperimenti che l'hanno di laboratorio che l'hanno confermato a livello inconsciutabile. L'ambiente cambia l'osservatore e l'osservatore cambia l'ambiente. Quindi, prima io devo andare a individuare quali sono le frequenze che mi fanno star bene, non più tv, tv via, teatro, faccio un esempio, calcio via, un'altra passione per dire bene. E poi, quando comincio a vibrare in una maniera pulita, comincio a cambiare quello che osservo. Così parte l'ero qui. Prima vado a individuare cosa fuori di me mi dà fastidio e mi arrecca danno, poi o lo sostituisco o lo trasmuto, perché cambio la percezione che ho io di quella cosa lì. Questo è il salto. La malattia è uno squilibrio informazionale che quando ricambio l'informazione, che posso anche darla lì dentro, perché l'informazione principale, vi dico sempre che la causa principale dei problemi sono questi, ma in tutti i casi è sempre la mente. Quando tu riesci, perché? Perché tu non sei, non controlli la tua mente. Io adesso vorrei fare un esercizio, chi ci sta ascoltando? Faccio un esercizio. Poi da testare un minuto a fissare un foglio bianco o qualcosa e non avere pensieri. Scegliete di non avere pensieri. Voglio vedere chi ce la fa? Un minuto. Da noi riusciamo a fare otto minuti, facciamo un esercizio degli otto minuti, perché ho detto, quando tu, è un esercizio che tu per otto minuti non hai pensiero. Tu osservi il tuo desiderio, ad esempio, per otto minuti non hai pensiero su quel desiderio. Quel desiderio ti arriva, perché non c'è nessun pensiero che lo sta distanziando da te. Tu sei ciò che credi di essere. Credo di aver sentito qualcosa del genere riferito alla scoperta dei neutrini, che alla fine, no? Sì. erano stati ipotizzati finché alla fine li hanno scoperti. Ma è tutto così, cioè se una cosa non la puoi immaginare, non la puoi creare, non la puoi realizzare. Io da vent'anni, che insomma con la nostra, con Nexus New Times, adesso anche con Punto Zero, le riviste che pubblichiamo, noi affrontiamo esattamente questo genere di tematiche ed è sorprendente vedere che dopo tutti questi anni e voi siete un esempio di questo, di questo risveglio, siete una manifestazione più che un esempio. Ma è sempre così, in medicina città ti insegnano lo Yang e lo Ying sono in equilibrio. Più lo Yang spinge, più lo Ying dopo un po' deve ribaltare, perché c'è una legge fondamentale all'universo che è la legge d'equilibrio. Certamente. Quindi più ci saranno forze e poteri forti che cercheranno di opprimerci, più le persone vorranno essere indipendenti e risvegliarci. Quindi infatti gli dico sempre, bisogna sempre ringraziare tutto quello che ti viene nella vita. Mi è fatto molto piacere conoscere te. Mi sono onorato perché ti conosco da 12-13 anni. Grazie. Quindi mi sono sempre onorato. Comunque vita a rodocchio ragazzi. Ok. E ci risentiamo più avanti. Quando vuoi veni a trovarci. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.